La struttura commissariale per la ricostruzione post-Sisma 2016, Action Aid e concittadinanza attiva hanno siglato un accordo quadro di partenariato per favorire il coinvolgimento delle comunità e del tessuto socio-economico locale nel processo di ricostruzione del centro Italia, in particolare nei comuni più colpiti da dove partiranno già nei prossimi giorni le prime azioni concrete. Il progetto, denominato percorsi di partecipazione comunitaria per la ricostruzione, prevede l'impegno delle due organizzazioni che negli anni hanno sviluppato una qualificata esperienza nell'informazione civica e nell'attivazione di percorsi di partecipazione dei cittadini alla fase di ricostruzione post-catastrofe. L'accordo quadro è stato firmato a Roma dal commissario Giovanni Legnini, da Katia Scannavini, vice segretario generale di Action Aid, e da Annalisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanza Attiva e prevede che le parti sostengano con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione dell'attività congiunte. Action Aid e Cittadinanza Attiva in questa fase collaboreranno con il commissario anche per quanto riguarda la consultazione per la messa a punto del testo unico della ricostruzione privata, che vedrà la luce tra poche settimane e in uno specifico progetto, in fase di elaborazione, che riguarda la ricostruzione e la messa in sicurezza di oltre 200 scuole nel cratere del sisma 2016. Questo accordo è parte delle iniziative che stiamo adottando per dare attuazione concreta al principio della partecipazione consapevole dei cittadini, alle scelte e alle decisioni che i comuni più colpiti dovranno adottare affrontando la ricostruzione, che abbiamo inquadrato anche nella normativa sui programmi straordinari di ricostruzione, ha spiegato il commissario Giovanni Legnini.